A voi famiglie avete qualcosa da dire alla Chiesa? Avete qualcosa da dire a questa nostra società in questa occasione della festa della famiglia? E voi avete da dire questo, mi sembra di sentirvi. Abbiamo da annunciare la gioia della bellezza di essere famiglia. Infatti noi sappiamo il segreto della gioia e lo sperimentiamo in questo percorso così affascinante e misterioso. Io provo gioia perché mi dedico alla tua gioia. Così dice il marito alla moglie, così dice la moglie al marito, così dicono i genitori ai figli. La gioia non è una conquista privata, non è una soddisfazione di un desiderio compiuto, ma è seminare la gioia nel cuore delle persone amate. Dunque questa è la bellezza di essere famiglia, la cura per la gioia gli uni degli altri. Ma voi famiglie avete qualcosa da dire alla Chiesa, alla società? A me sembra, ascoltando la vostra testimonianza, il vostro esempio, che voi avete da dire questo. Noi conosciamo il senso della vita. Noi, che siamo il luogo dove la vita nasce, possiamo dire che significato ha la vita. E voi dite questo alla Chiesa, voi dite questo alla società. Noi siamo gente generata per comprendere che il senso della vita è di essere amati e di amare. Il senso della vita, la direzione da seguire, la promessa per cui vale la pena di venire al mondo e vale la pena di mettere al mondo il futuro è questa, essere amati. Quindi, nessuno di noi può nascere senza un amore che lo genera e amare. Nessuno di noi può vivere senza fare della sua vita un dono. Questo mi pare che voi potete insegnare alla Chiesa e alla società. Sì, va bene, però, e tutte le ferite? Sì, va bene, ma e tutte le sofferenze? E tutte le mortificazioni? E tutte le frustrazioni? Ecco cosa significa celebrare la festa della famiglia nella nostra Chiesa, nelle nostre comunità. Significa che ogni ferita, ogni sofferenza può essere assunta non come una sorta di esasperazione che trova la sua soluzione nello spaccare tutto. Ogni ferita e ogni sofferenza trova una via di guarigione. Se incontra quella parola del Vangelo che dice perdona, guarda, riconosci, aspetta. Ecco, la gioia di essere famiglia, la bellezza della famiglia, è che è un luogo di perdono, è un luogo per ricominciare, è un luogo in cui la speranza non può morire, è un luogo in cui la responsabilità che uno si prende non può essere dimessa per esasperazione. Ecco, la Chiesa desidera accogliere il messaggio delle famiglie, il segreto della gioia, il senso della vita, la speranza della guarigione. Ma la Chiesa significa anche quella comunità che si impegna ad annunciare questa bellezza dell'essere famiglia, che dice ai giovani, che dice a tutti, cercate il senso della vita, che è soltanto questo, amare ed essere amati. Cercate la via della gioia, che è soltanto questo, prendersi cura della gioia delle persone amate. Che il Signore benedica tutte le famiglie, benedica tutte le chiese e dia a questa società una via per guardare al suo futuro con fiducia. Ci sono infatti le famiglie. E a voi che siete in cammino verso il momento in cui il percorso di amore diventa celebrazione del matrimonio, a voi tutti fidanzati, gente che si prepara al giorno solenne e unico della vita, io rivolgo un invito. Vi aspetto tutti il 10 di febbraio per prepararci a San Valentino, dicendo che abbiamo una condivisione di gioia, di speranza, di confidenza. Il 10 di febbraio, in Sant'Ambrogio. Vi aspetto tutti.